Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei profili Instagram, sicuro dedicato al canale, sicuro a me personale, e anche il link del mio gruppo Telegram in cui si parla di cinema, quindi di film, ma anche di serie TV. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertia del canale e tutte le copertie dei miei video. Detto questo, direi iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, direi iniziare subito con il video di oggi, in quanto a fare la recensione della serie animata del 2021, Hit Monkey, disponibile su Disney+. Ho recuperato da poco questa serie, perché avendo un po' di tempo libero a disposizione, sono riuscito a vederla e devo dire che mi è piaciuta e non poco. È una serie che ho apprezzato particolarmente perché, è vero, a tratti potrebbe sembrare leggera, ma in realtà è una serie con dei contenuti, a mio parere, molto interessanti e che portano anche lo spettatore un po' a riflettere. Perché sì, di base si tratta di una scimmia in cerca di vendetta. Ok, questa è un po' la trama di base, cioè proprio riassumibile in pochissime parole. Però ogni puntata mi è piaciuta, mi ha coinvolto anche proprio dal punto di vista action funziona. È una puntata che funziona anche appunto sotto questo punto di vista, per quanto riguarda infatti gli inseguimenti, i combattimenti. Queste sono secondo me alcune delle parti migliori presenti all'interno di questa serie. Sono dieci puntate, io spero che esca magari un'eventuale ipotetica seconda stagione. Lo spero davvero tanto perché sarei curioso di vedere, di capire come andrà avanti il tutto, come proseguirà tutta questa storia. Quindi questa prima stagione io ve la consiglio. L'animazione mi è piaciuta, l'animazione l'ho trovata particolarmente azzeccata, anche proprio visivamente parlando. La serie funziona dal punto di vista tecnico, secondo me è ben fatta. I personaggi sono un grandissimo punto di forza di questa serie. Sia la scimmia e anche, diciamo, il personaggio che gli farà da spalla e da guida. Ecco, mettiamolo così, non mi anticipo nulla in questa parte, no spoiler, ma comunque i due personaggi principali funzionano. E anche tutti gli altri personaggi, sia buoni che cattivi, all'interno di questa serie, secondo me, vengono inseriti nel miglior modo possibile. Sono tutti molto interessanti. Le varie minacce, magari anche gli alleati. Sono tutte componenti e dinamiche che all'interno di questa serie arricchiscono il tutto sempre di più, ancora di più rispetto, diciamo, all'inizio. Quindi è una serie che funziona sia nella parte iniziale, anche nella parte centrale, eppure nella parte finale. Con anche delle, diciamo, delle scene che mi hanno fatto emozionare. Ecco, lo ammetto e lo dico perché, appunto, è una serie che riesce anche a far emozionare lo spettatore. È una serie che proprio mi ha coinvolto tantissimo dall'inizio alla fine. Ovviamente nella parte spoiler entrerò un po' più nei particolari, nei dettagli, per potervi parlare in maniera più dettagliate e approfondita, appunto, di questa serie. Però in questa parte è uno spoiler, posso dirvi che, appunto, la serie, come ho detto poco fa, funziona sia dal punto di vista visivo, tecnico, ma anche dal punto di vista emotivo. Quindi sono tutte componenti che mi fanno valutare in maniera più che positiva questa serie. Io ve la consiglio assolutamente. È anche abbastanza godibile e scorrevole. Tutti gli episodi, che appunto, come ho detto poco fa, sono dieci, durano più o meno venticinque minuti, mezz'ora, non di più. E magari, ecco, diciamo, questa è la durata all'incirca di ogni puntata. Quindi sono puntate davvero godibili e scorrevoli, come ho detto poco fa, in poco tempo. È davvero una piacevolissima sorpresa e una bellissima scoperta questa serie, per quanto mi riguarda. Quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questa serie tre stelle e mezzo su cinque. Un voto che si può stare per una serie che è riuscita a coinvolgermi dall'inizio alla fine con una sceneggiatura anche molto solida, secondo me. Proprio è stata scritta bene questa serie e si vede e si nota questa cosa in ben più di un'occasione durante le varie puntate. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per non essere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con i spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler non mi dilungherò più di tanto, però voglio parlarvi di alcuni momenti presenti all'interno di questa serie che mi sono piaciuti davvero tanto. Innanzitutto, la prima puntata secondo me è una gran bella prima puntata perché ci introduce alla perfezione i personaggi presenti all'interno di questa serie e anche il contesto in cui ci troviamo. Quindi conosciamo quest'uomo e poi conosceremo anche la scimmia e poi vedremo anche la collaborazione fra entrambi. Mi è piaciuta molto questa prima puntata perché è riuscita a presentare nel miglior modo possibile secondo me questi due personaggi che poi si incontreranno. Anche il momento in cui morirà e verrà ucciso proprio l'uomo e poi ci sarà appunto il fantasma, lo spirito per così dire, di quest'uomo ad accompagnare la scimmia proprio per riuscire a compiere, ad attuare questa vendetta. Perché a parte l'uomo, o per meglio dire, oltre a lui moriranno per meglio dire tutte le altre scimmie a cui appunto la scimmia principale era affezionata. E quindi da un lato abbiamo la scimmia che vuole vendicarsi per la morte di tutte le altre scimmie, dall'altro abbiamo l'uomo che vuole vendicarsi per essere stato ucciso. E con la scusa, ovviamente, la scimmia, oltre a vendicare le scimmie, potrà vendicare anche la morte dell'uomo che è stato ucciso. Quindi ci sarà questa collaborazione, questo legame, questo rapporto che verrà, secondo me, costruito e gestito e sviluppato durante tutto il corso delle varie puntate in maniera più che buona. Anzi, oserei dire, ottima. Perché è vero che, diciamo, non vanno sempre d'accordo, però è, diciamo, un legame, un rapporto a tratti simpatico. In altri casi, anche emozionante e commovente. Quindi funziona questo duo all'interno della serie. Poi anche tutte le varie scene action, gli inseguimenti. Ho apprezzato tantissimo tutte le altre puntate, come il momento in cui entrambi arrivano a Tokyo, o anche la parte nel casino, oppure la parte nel carcere. Anche quella mi è piaciuta davvero tanto. Ci sono tantissime altre scene che potrei citare, come ad esempio lo scontro durante il funerale, oppure anche quando c'è questa nemica particolarmente temibile, che per poco non riuscirà a far fuori proprio la scimmia. Quindi è una nemica davvero temibilissima, crudele e particolarmente violenta. Quindi queste sono solo alcune delle scene che ho apprezzato davvero tanto all'interno di questa serie. Vi dicevo poco fa delle varie scene che ho apprezzato, come quella nel casino, lo scontro al funerale, quella nel carcere, l'arrivo dei due a Tokyo. So che mi sto ripetendo, però è anche perché voglio parlarvi di altre scene, voglio farvi capire, voglio ribadire che queste scene le ho apprezzate proprio perché mi hanno intrattenuto, mi hanno coinvolto e non poco. Poi ho apprezzato anche altre scene, come ad esempio la parte, come vi dicevo poco fa, in cui c'è lo scontro fra la scimmia e questa nemica particolarmente temibile, oppure la parte in cui c'è proprio la scimmia che tornerà nel suo habitat naturale. Quella è una puntata che ho apprezzato davvero tanto ed è la puntata immediatamente successiva alla temporanea separazione fra la scimmia e lo spettro e il fantasma dell'uomo, proprio perché hanno avuto un litigio. Quindi è una serie che riesce a proporre anche dei momenti drammatici davvero interessanti, secondo me. Anche le morti di alcuni personaggi, secondo me, riescono a colpire lo spettatore proprio dal punto di vista emotivo, almeno a me hanno colpito e non poco. Quindi anche la puntata in cui la scimmia tornerà nel suo habitat naturale e starà insieme ad altre scimmie, però poi la scimmia piccola morirà e quindi la scimmia capisce che, diciamo, non appartiene né alla natura, per così dire, quindi non è né pienamente scimmia né pienamente umana, ecco, per così dire. Fa parte di entrambe le cose, è un po' e un po', quindi è questo il suo destino. Deve accettarlo e deve, appunto, andare avanti sempre e comunque. Ed è ciò che la scimmia farà quando si riappacificherà con il fantasma, con lo spettro dell'uomo. Quindi quella puntata mi è piaciuta tantissimo, per me è una delle migliori in assoluto. E poi ci sono le ultime due puntate, le ultime due puntate in cui c'è proprio la fine di questa prima stagione, la penultima in cui la scimmia farà fuori vari nemici, ma è tutta apparenza, perché il vero nemico, e questo è un bel colpo di scena, secondo me, è proprio lo zio della ragazza con cui la scimmia farà amicizia durante tutto il corso delle varie puntate, perché c'è questo rapporto anche molto forte fra questa ragazza e la scimmia ed è proprio lo zio della ragazza a essere il principale colpevole di tutto, ecco, quindi anche per quanto riguarda la tematica sociale e politica, dato che lo zio si stava candidando, ecco, anche quella parte è stata inserita piuttosto bene, secondo me, all'interno di questa serie. Questa scoperta ovviamente porterà un'ultima puntata in cui morirà proprio lo zio, ecco, anche quella parte diciamo che funziona proprio dal punto di vista emotivo, perché si arriva all'apice, al culmine di questa prima stagione e c'è questo momento in cui poi la ragazza, diciamo, dirà ovviamente a morte la scimmia per aver ucciso suo zio, ecco, e quindi quel rapporto si spezza, si rompe, e se dovesse esserci una seconda stagione sarò, o per meglio dire, appunto, sì, sarò molto curioso di vedere e di capire come andrà avanti il tutto, visto che ora la scimmia e il fantasma, appunto, lo spettro dell'uomo dovranno comunque andare avanti e c'è questa nuova possibile potenziale minaccia. Anche nell'ultima puntata lo scontro fra, diciamo, i buoni e i cattivi, per così dire, mi è piaciuto, mi ha coinvolto. È una puntata che davvero chiude, secondo me, alla grande questa prima stagione, quindi sono tutte puntate con dei contenuti molto interessanti, anche la puntata in cui tutti danno la caccia alla scimmia in stile John Wick, per così dire. Ecco, questa serie un po' mi ha ricordato John Wick e funziona, funziona davvero bene, perché io apprezzo la trilogia di John Wick, soprattutto il primo film, anche gli altri due, però il primo per me ha qualcosa in più. Questa serie mi ha ricordato un po' John Wick ed è un bene in questo caso. Non dipende da John Wick, si regge sulle... ha delle solide basi, per così dire, e anche lo sviluppo non è affatto male. Tutti i vari sviluppi di questa serie sono, secondo me, particolarmente azzeccati ed è una serie che, a parte questi piccoli riferimenti a John Wick, o per meglio dire, oltre a questi piccoli riferimenti a John Wick, funziona anche per quanto riguarda tutto il resto. Quella puntata in cui tutti danno la caccia alla scimmia e quindi deve affrontare vari nemici è davvero molto bella, una delle più movimentate, una delle più dinamiche, sicuramente, per quanto mi riguarda, una delle più riuscite. Ma tutte le puntate sono riuscite, secondo me, a, diciamo, a essere interessanti. Non c'è una puntata brutta e questo è sicuramente un bene. Quindi voi che ne pensate di questa serie, vi è piaciuta oppure no? Fatemelo sapere perché mi interessa sapere la vostra opinione su questa serie. Ed è tutto ciò. Io direi che mi sto qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!